Il suono delle sirene a squarciare il silenzio della notte con le luci di decine di lampeggianti a illuminare il piazzale della caserma dei vigili del fuoco di via Paronese, con tutti gli effettivi schierati davanti ai mezzi. Così, ieri sera, le volanti della polizia e poi le ambulanze della pubblica assistenza hanno voluto portare la solidarietà e la vicinanza al corpo che sta piangendo tre suoi vigili, morti nella tragica esplosione dell'Alessandrino. Un gesto, spiegano dal comando di via Paronese, che ha riscaldato il cuore di tutti noi, un sentito e caloroso ringraziamento a quanti hanno mostrato solidarietà nei confronti di Antonio, Marco e Matteo, colleghi appartenenti al comando di Alessandria che recentemente sono venuti a mancare dalla famiglia dei vigili del fuoco nell'adempimento del dovere.